Musica Attenzione 30 leva destra 30 leva destra che apre destra piena in acceso sinistro in S3++ gira Minutare Unbuat 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 stop, tornandone destro, 50 e S3- chiude 20 tornante, S3- chiude 20 tornante, in uscita piena c'è il donto, a tre più lunga il donto doppia, un pulino secca nel parcheggio 50 e leva a tre più, 70 vai, in ritardo alla rete, S3 meno meno secca, tonda al segno Grazie a tutti